Ciao a tutti amici di Focus Tech e benvenuti alla nostra recensione dell'Asus Zenfone 7 Pro il nuovo top di camera di casa Asus che riprende ciò che abbiamo visto sull'Asus Zenfone 6 ovvero naturalmente la flip camera quindi tre sensori che possono essere utilizzati sia anteriormente che posteriormente ma ne amplia le funzionalità proponendo tutte le caratteristiche e tutte le componenti aggiornate al 2020 quindi abbiamo processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus e naturalmente la possibilità di fruire anche di un ampissimo display da 6.67 pollici AMOLED con frequenza di aggiornamento a 90 Hz vediamolo da vicino e vediamo se effettivamente vale tutta la spesa richiesta da Asus dopo la nostra sigla Le dimensioni non sono il suo punto di forza perché Asus Zenfone 7 Pro raggiunge 165,1 x 77,3 x 9,6 mm di spessore con un peso addirittura di 230 grammi la scocca in alluminio fa sicuramente la sua parte però è uno smartphone tutt'altro che portabile quindi non pensate di portarlo con tranquillità nella tasca dei jeans perché nel momento in cui lo posizionerete si farà decisamente sentire il peso va oltre e ben oltre i 200 grammi che viene sostanzialmente ritenuto come il limite oltre il quale il dispositivo diventa un vero e proprio padellone e allo stesso modo lo spessore di quasi 10 mm è davvero molto ma molto elevato detto questo sui bordi abbiamo comunque tanta connettività in particolare sul lato sinistro abbiamo lo slot e il carallino per le sim superioremente non troviamo nulla se non la flip camera mentre sul lato destro tasto di accensione e spegnimento con incastonato il sensore per le impronte digitali e i tasti per il volume inferioremente invece troviamo posizionata una USB Type-C 2.0 è uno dei due altoparlanti in quanto ha audio stereo che sfrutterà naturalmente la capsula auricolare tutta la scocca è realizzata in alluminio con vetro nella parte posteriore dove troviamo la scritta Asus al centro buoni colori buoni riflessi della luce che comunque offrono un aspetto elegante senza essere troppo pacchiano e una scocca che non trattiene particolarmente le ditate è lucida quindi a prima vista pensereste che effettivamente si sporcherebbe con nulla però devo dire che anche toccandolo non si sporca poi così facilmente ed è un aspetto sicuramente interessante nel momento in cui noi lo prendiamo comunque in mano ci dà l'idea di avere tra le mani uno smartphone realizzato con componenti e materiali di altissima qualità e effettivamente era quello che ci saremmo aspettati dato il prezzo di vendita che al giorno d'oggi si aggira attorno ai 799 euro di listino e 699 euro in offerta le camere sono posizionate in orizzontale vanno a creare una sorta di piano nel momento in cui noi lo appoggiamo sul piano di lavoro però lo mantengono sopraelevato dal piano stesso quindi vanno a creare una sorta di piano inclinato piano obliquo che può non piacere a tutti non ballerà particolarmente però tenete anche in questo caso presente questo aspetto anteriormente abbiamo chiaramente un pannello senza notch senza fori o quant'altro perché si sfrutta questo meccanismo di flip camera i 6.67 pollici di display sono con cornici sottilissimi davvero praticamente nulle sia sui bordi che supermente e inferiormente e ci permettono di sfruttare questo terminale in tutta la sua ampiezza e in tutta la sua bellezza in quanto il pannello è un AMOLED full HD plus 1080x2400 pixel con frequenza di aggiornamento a 90 Hz 394 PPI 19.5 noni di rapporto d'aspetto e supporto HDR10 plus 110% dello spazio colore DCI-P3 e protezione Gorilla Glass 6 che è presente naturalmente anche nella parte posteriore in versione Gorilla Glass 3 quindi abbiamo un dispositivo protetto da urti e graffi ed in grado naturalmente di fornire un rispetto dei colori eccellente in quanto il supporto al 110% dello spazio colore naturalmente permette di ottenere e di sfruttare tutte le tonalità dei colori e di avere un livello di dettaglio elevatissimo grazie proprio anche alla presenza di un AMOLED il quale va a rendere i neri veramente neri e i bianchi veramente bianchi è un pannello molto ma molto bello di fascia altissima al quale non gli si può dire praticamente nulla proprio perché è anche supportato da una frequenza di aggiornamento a 90 Hz il che lo rende decisamente più fluido della concorrenza è a livello dei top di gamma è presente se interessati l'always on display ma non permetterà di visualizzare le notifiche come caratteristica di praticamente tutti i dispositivi ASUS sotto il cofano abbiamo un altro componente di altissimo livello ovvero il processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus octa-core a 2.84 GHz di frequenza di clock accoppiato con una GPU Adreno 650 il tutto viene mosso anche da 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1 quindi rapidissima espandibile tramite la microSD è un insieme di componenti che naturalmente non delude assolutamente le aspettative perché abbiamo il processore più performante al mondo naturalmente al momento in cui è stato prodotto al momento in cui stiamo effettuando la registrazione e permetterà di sfruttare questo dispositivo per qualsiasi utilizzo sia esso gaming sfrenato o anche semplicemente lavoro, sfruttare la navigazione in internet spostarsi tra le applicazioni e avviare più applicazioni contemporanee o quant'altro ora lo vediamo da vicino facciamo il nostro test con i social network e poi proviamo anche l'audio tramite Asphalt 9 sono presenti naturalmente tutte le gesture qui io ho utilizzato i tre pulsanti quindi prima di tutto chiudiamo le applicazioni e proviamo ad aprire i social network ad esempio qui ho Facebook vedete si apre davvero in un amen nel momento in cui io posso accedere il feed passa davvero pochissimo tempo e poi posso sfruttare anche la fluidità garantita dai 90 Hz vedete che è davvero un aspetto importante e una possibilità in più per un dispositivo che davvero promette ottime prestazioni stesso discorso vale naturalmente per l'apertura di Instagram anche in questo caso nel momento in cui ho premuto poi posso accedere rapidissimamente al feed non devo attendere praticamente nemmeno un secondo proprio per avere la possibilità poi di accedere al feed e poi navigare tranquillamente all'interno dello stesso quindi molto ben fatto e molto ma molto rapido l'apertura di Asphalt 9 è anch'essa fulmina prima di tutto sentiamo l'audio esce sia dalla capsula auricolare sia dal toparlante che è posizionato qui in basso infatti se chiudo qui sentite che si sente qui in basso ora però mettiamo il volume al massimo e sentite il livello del volume stesso davvero molto ma molto bene buon dettaglio in tutte le tonalità abbiamo anche buoni bassi sentite un'ultima volta e un buon dettaglio anche in frequenze elevate sentite molto ma molto bene sotto questo punto di vista ora lo rimetto al minimo e vediamo anche come si comporta nel gaming vero e proprio in quanto abbiamo un terminale che naturalmente ha praticamente un infinity display quindi senza cornici ed è molto ampio essendo poi un AMOLED con una grande frequenza di aggiornamento abbiamo un'ottima fluidità anche nel gaming vero e proprio come state effettivamente vedendo con Asphalt 9 e tutto il rispetto dei colori che abbiamo visto nel momento in cui vi abbiamo parlato del display si ritrova anche nel gaming vero e proprio quindi un'esperienza avvolgente un'esperienza davvero di livello altissimo che forse tramite la camera non rende ma ha una fluidità che è davvero quasi paragonabile ad una console è sicuramente uno dei dispositivi che permette maggiormente di fruire anche del gaming proprio perché questo infinity display darà un'esperienza immersiva all'utente il display è di altissimo livello e il processore copiato con tante gigabyte di RAM e la fluidità della frequenza di aggiornamento sono sicuramente il valore aggiunto di questo Zenfone 7 Pro proseguendo con le specifiche tecniche incrociamo naturalmente la connettività il dispositivo è 5G permette di navigare fino a 7500 megabit per secondo e ha anche tutta la connettività annessa quindi wifi 6, 800 2.11 AX, dual band bluetooth 5.1, GPS, NFC e USB Type-C 2.0 mancano jack da 3.5 mm e radio FM che è stata effettivamente rimossa per salvaguardare lo spazio complessivo interno di questo dispositivo il sistema operativo è chiaramente Android 10 con patch aggiornata al 5 ottobre 2020 e personalizzazione grafica ZenUI 7 è sostanzialmente la classica personalizzazione che vediamo su tutti i dispositivi Asus che ha portato l'azienda a voler mantenere quasi l'Android Stock quindi nel momento in cui l'utente andrà ad acquistare questo Zenfone 7 Pro si ritrova tra le mani quasi una versione standard di Android senza particolari personalizzazioni che non siano la dark mode automatica la possibilità di personalizzare il tasto di accesso e spegnimento in quanto intera due funzioni differenti con la pressione prolungata o il triplo tocco e si potranno assegnare funzioni a piacimento anche ad esempio l'apertura di determinate applicazioni la possibilità di sdoppiare le applicazioni quindi sfruttare l'ampio display per avere due finestre incontemporanea o Game Genie che è sostanzialmente lo spazio gioco che va a migliorare le prestazioni nel momento in cui l'utente avvia un gioco niente di più rispetto a quanto detto per il resto è il classico Android Stock e funziona davvero molto ma molto bene fluido e assolutamente ben fatto senza nulla da segnalare la batteria è invece un componente da 5000 mAh molto ma molto capiente permette ricarica rapida 30W in confezione è presente il caricatore adeguato per supportare questa tipologia di ricarica ma purtroppo non ha né ricarica wireless né ricarica inversa soprattutto la ricarica wireless è una mancanza non da poco per uno smartphone di fascia alta ma abbiamo apprezzato principalmente le modalità che troviamo all'interno in quanto l'idea di Asus è quella di gestire al meglio la ricarica della batteria nell'idea di prolungarne la vita e quindi di evitare che poi si scarichi il più rapidamente possibile nel momento in cui l'utente la utilizzerà per anni e anni per questo ha la possibilità di impostare la cosiddetta ricarica lenta tale per cui non caricare il più rapidamente possibile il dispositivo ma farlo molto lentamente programmando anche il momento in cui effettivamente avere lo smartphone completamente carico seguendo le vostre abitudini è presente anche il limite massimo di carica in quanto si dice sostanzialmente che è meglio non caricare sempre al 100% il dispositivo per questo Asus permetterà di impostare un livello massimo di carica oltre il quale il dispositivo anche se lo lascerete connesso tutto il giorno non andrà va dall'80 al 100% sono piccoli accorgimenti niente di particolarmente importante che però fanno capire l'attenzione di Asus anche proprio verso l'utente che non è solito cambiare con una certa frequenza il proprio dispositivo parlando invece di durata della batteria abbiamo comunque raggiunto livelli molto ma molto interessanti un filino superiore alla media in particolare devo dire che per un utilizzo standard ho totalizzato 4 ore e 56 minuti facciamo praticamente 5 ore di display attivo con il 13% di carica residua che è un aspetto importante soprattutto secondo i miei standard che sono nella media di 3 ore e 30 o 4 ore di display attivo quindi possiamo considerare questo Asus Zenfone 7 Pro come un filino superiore in termini di durata della carica della batteria arriviamo ora a parlare del comparto fotografico la cosiddetta flip camera che permetterà quindi di utilizzare i tre sensori sia come fotocamera principale che come fotocamera anteriore semplicemente toccando un pulsante direttamente sul nostro dispositivo questi tre sensori sono composti da un principale da 64 megapixel con apertura f1.8 e stabilizzatore ottico interato un secondario da 12 megapixel che è un grandangolare f2.2 e messa a fuoco automatica e uno zoom 3x da 8 megapixel con apertura f2.4 e anch'esso con stabilizzatore ottico interato l'applicazione fotocamera è molto bella e molto completa infatti dall'applicazione stessa io posso scegliere quale sensore utilizzare e posso scegliere se flipare la camera di 180 gradi oppure appoggiarmi ad alcune altezze preimpostate già presenti sul dispositivo in questo modo Asus ha pensato di rendere il più rapido possibile l'accesso a determinate posizioni però nel caso in cui voi vogliate sfruttare la flip camera a piacimento potrete regolare l'altezza completamente in autonomia variando l'angolazione di 0,5 gradi per volta in confronto ai due gradi che vedevamo sullo Zenfone 6 semplicemente sfruttando i tasti del volume ed è davvero un altro aspetto interessante proprio perché questa flip camera indipendentemente dalla qualità degli scatti permette di ampliare le possibilità di utilizzo e di raggiungere angolazioni e scatti in comodità e allo stesso modo garantendo anche una qualità di scatto elevatissimo infatti ci è piaciuto particolarmente il bilanciamento dei colori e il livello del dettaglio sia all'aperto che al chiuso un insieme di risultati che portano lo Zenfone 7 Pro direttamente proprio nella fascia alta nella fascia in cui è stato effettivamente posizionato nel complesso i risultati sono eccellenti anche se effettivamente in alcune occasioni il bilanciamento delle luci lascia un po' a desiderare nel senso che se abbiamo una forte sorgente luminosa il dispositivo ha questa tendenza a bruciarla però è davvero come cercare il pelo nell'uovo perché il livello del dettaglio della qualità degli scatti soprattutto all'aperto è elevatissimo stesso discorso per quanto riguarda la poca luce in quanto anche in questo caso abbiamo risultati in linea con i top di gamma in termini di dettaglio e di bilanciamento dei colori abbiamo apprezzato davvero tanto lo sforzo che ha fatto ASUS nel cercare di migliorare il più possibile la resa fotografica la modalità notturna è automatica quando il dispositivo si accorge che vi è poca luminosità la attiverà in automatico ed è davvero molto interessante perché già di base gli scatti raccolgono tantissimi dettagli e hanno una buona luminosità però nel momento in cui noi andiamo ad attivare la modalità notturna riesce a migliorarli a renderli più nitidi e a gestire nel miglior modo possibile le luci quindi molto bene il comparto fotografico ricordando che grazie alla flip camera abbiamo anche la possibilità di effettuare il panorama automatico ovvero attivare la modalità lasciare lo smartphone posizionato su un piano e la flip camera effettuerà spostandosi di volta in volta una ripresa a 180 gradi poi comprimendola all'interno di un unico scato oltre al tracking del soggetto quindi io posso avviare la fotocamera posso selezionare un determinato soggetto e poi spostare il soggetto e automaticamente naturalmente nei limiti del possibile la flip camera si sposterà per cercare di non perdere l'inquadratura due funzioni che praticamente non troviamo in quasi nessun altro dispositivo e che rendono questo Zenfone 7 Pro ancora più unico parlando invece di video abbiamo una registrazione al massimo in 8K a 30 fps l'8K al giorno d'oggi non è poi così utilizzato né perfetto quindi vado direttamente sul 4K a 60 fps in questo caso devo dire che la qualità è anch'essa molto ma molto interessante perché le immagini sono nitide abbiamo un buonissimo dettaglio e i colori sono perfettamente rispettati in tutte le loro tonalità abbiamo notato un grandissimo passo in avanti rispetto ai risultati raggiunti con lo Zenfone 6 sia al chiuso che all'aperto il rumore naturalmente dopo un po' si vede però bisogna diminuire davvero di tanto la luminosità complessiva è anche in questo caso uno dei migliori smartphone in circolazione non è il classico camera phone però ci si avvicina particolarmente la stabilizzazione è ottica grazie alla presenza dello stabilizzatore sia sul sensore principale che sul sensore zoom e permette anche di sfruttare la cosiddetta super stabilizzazione quindi un secondo livello di stabilizzazione che però va a ridurre la qualità fermandosi al full HD già di base comunque la stabilizzazione è davvero ottima perché ho provato a riprendere più volte camminando per strada e devo dire che ho ottenuto risultati sicuramente migliori rispetto a quanto ho visto su altri top di gamma nel momento in cui effettivamente andrete ad avviare la super stabilizzazione non sembrerà naturalmente di avere un action camera né raggiungerà i livelli di un iPhone 12 Pro Max però devo dire che va a migliorarla ancora di più e con molta fatica otterrete effettivamente riprese mosse anteriormente invece non è stato posizionato alcun sensore proprio perché io ho la possibilità di utilizzare la flip camera anche per scattare selfie e in questo caso utilizzare tutte le funzioni che vi ho appena raccontato lo sblocco del dispositivo può avvenire in due modi sfruttando il sensore per le impronte digitali posizionato sul tasso di accensione e spegnimento o naturalmente sfruttando il riconoscimento del viso tramite le camere chiaramente questa seconda modalità è molto lenta perché deve ruotare la camera di 180 radi affinché vi possa effettivamente riconoscere e quindi si ha la necessità di attendere il tempo necessario affinché possano ruotare ma poi si sblocca rapidamente stesso discorso però vale anche per il sensore per le impronte digitali perché personalmente non lo amo sul tasso di accensione e spegnimento soprattutto sui top di gamma lo amo sicuramente di più all'interno del display però devo dire che come velocità siamo davvero a livelli altissimi ma ora lo vediamo assieme questa è la mia schermata di sblocco io posiziono il dito e vedete che si sblocca molto rapidamente vi faccio vedere vedete che nel momento in cui vado a appoggiare il dito se viene riconosciuto correttamente proprio perché io ho la fatica nel momento in cui sono mancino a posizionarlo correttamente però nel momento in cui noi lo posizioniamo correttamente vedete che è praticamente istantaneo è davvero di qualità superiore a tanti altri dispositivi che troviamo in commercio sia in termini di affidabilità che in termini di riconoscimento e di velocità di riconoscimento dell'impronta molto bene sotto questo punto di vista peccato solamente che sia stato posizionato sul tasso di accessione e spegnimento io personalmente lo avrei sicuramente apprezzato di più sotto il display che dà quella sensazione di premium in più rispetto a dispositivi che al giorno d'oggi lo posizionano proprio sul tasso di accessione e spegnimento e rientrano nella fascia media per quanto riguarda invece lo sblocco con il viso dalla schermata di sblocco io faccio uno swipe verso l'alto si gira la flip camera e lui mi riconosce è naturalmente una funzione che è stata introdotta per soddisfare gli utenti ma è poco pratica proprio perché naturalmente si va innanzitutto ad utilizzare la flip camera ed è sempre meglio non andare ad utilizzarla quando non necessario e allo stesso modo naturalmente si ha la necessità di attendere quel secondo in più affinché possa ottenere il risultato desiderato è sicuramente interessante ad esempio se avete le mani sporche o avete i suoi guanti e non avete la possibilità di utilizzare lo sblocco col sensore qui sul lato destro e quindi avete questa possibilità vi basterà fare uno swipe e automaticamente vi riconoscerà è comunque più lenta rispetto a tutti gli altri dispositivi attualmente presenti sul mercato l'Asus Zenfone 7 Pro è comunque uno smartphone dual sim che presenta un cardino delle sim che ha tre slot quindi potrete inserire due sim e l'espansione di memoria tramite la micro SD in contemporanea senza rinunciare a nessuna di queste la ricezione è ottima la capsule auriculare funziona bene forse è stata posizionata fin troppo sul bordo per cercare di avere la cornice il più sottile possibile tale per cui in alcune occasioni si sente particolarmente ciò che l'utente dice dall'altro capo del telefono intorno a voi piuttosto che all'interno del vostro orecchio quindi rischiate di avere una resa più per il pubblico che per voi stessi ma anche in questo caso è andare a cercare il pelo nell'uovo perché complessivamente devo dire che funziona molto ma molto bene concludiamo la nostra recensione con il solito test audio e video su YouTube ricordando che abbiamo un audio stereo sfrutta sia l'altoparlante posizionato nella parte ferroa che la capsule auricolare in grado di raggiungere come abbiamo già visto con Asphalt 9 un volume davvero molto ma molto elevato e un ottimo dettaglio in conclusione questo Asus Zenfone 7 Pro è davvero molto ma molto interessante e vale la cifra richiesta perché è un dispositivo che si contraddistingue dalla mazza a partire dalla flip camera che è la caratteristica carding di questo modello poiché è un componente che permette naturalmente di ampliare le possibilità di utilizzo delle camere e quindi avere anche la possibilità di realizzare video vlog e selfie sfruttando quello che è un sensore stabilizzato ed in grado di registrare anche vlog proprio in 4K a 60fps se non addirittura in 8K che è una caratteristica inedita che non vediamo su nessun altro dispositivo questo è l'aspetto principale devi piacere perché può non essere comodissima però le funzionalità annesse e connesse sono davvero tantissime e va sicuramente detto oltre a questo ci è piaciuto davvero tanto il display perché è molto ma molto ampio e ha frequenze di aggiornamento a 90 Hz il che lo rende veramente fluid e colori davvero molto ma molto rispettati in aggiunta non possiamo che nominare naturalmente il processore Snapdragon 865 Plus è stato uno dei primi terminali a montarlo il che lo rende davvero rapidissimo ed in grado di eseguire qualsiasi gioco o qualsiasi applicazione quindi è uno smartphone da questo punto di vista un top di gamma perché anche il comportamento fotografico è ottimo abbiamo due sensori stabilizzati abbiamo un principale lo zoom e il grande angolare che si comportano egregiamente sia all'aperto che al chiuso permettono di registrare in 8k è un po' scattoso ma al giorno d'oggi difficilmente lo si vede lo si può utilizzare con tranquillità però devo dire che nel complesso il comparto fotografico in termini anche di registrazione video e di stabilizzazione siamo davvero a livelli altissimi ed è in linea con quelli che sono i top del settore gli aspetti negativi sono pochi va detto che è uno smartphone davvero molto ma molto grande pesante e spesso il che ne va ad inficiare sostanzialmente la portabilità quindi è uno smartphone che deve essere acquistato con consapevolezza perché effettivamente è molto scomodo da trasportare ed è grande e pesante quindi non è poi così leggerino nel momento in cui ad esempio lo volete infilare nella tasca dei vostri jeans ultime due cose da segnalare è sicuramente il comparto audio davvero ottimo un audio stereo che sfrutta l'altoparlante posizionato nella parte inferiore e la capsula auricolare raggiunge un volume molto ma molto elevato e abbiamo tanto tanto dettaglio in aggiunta non bisogna dimenticare la presenza ed è davvero una cosa inedita di un led di notifica è stato integrato nel bordo diciamo inferiore e si vede molto bene si possono impostare vari colori ed è davvero un aspetto che difficilmente vediamo soprattutto nei top di gamma nel 2020 l'ultimo aspetto su cui voglio focalizzare la nostra attenzione è lo sblocco con impronta digitale infatti abbiamo il sensore posizionato e lo vedete qui esattamente sul tasso di accensione e spegnimento è un po' scomodo perché lo sblocco come avete visto nella recensione è rapidissimo fluido e intuitivo però nel momento in cui io vado a avere uno smartphone da quasi 1000 euro se non di più e posizionare lo sblocco sul lato non è quell'aspetto che effettivamente lo rende migliore rispetto agli altri poiché sostanzialmente nella maggior parte dei casi almeno personalmente amo di più lo sblocco direttamente sotto il display perché è più rapido perché come avete già visto anche in altre recensioni io essendo mancino faccio fatica molte volte a sbloccarlo con il dito sul bordo è naturalmente un aspetto soggettivo però devo dire che potrevano fare qualcosa di meglio quindi posizionarlo direttamente sotto il display nel complesso va detto che vale sicuramente la cifra richiesta è un top di gamma sotto tutti gli effetti però deve piacere alla flip camera perché ampia le possibilità di utilizzo però poi non è così comodo in altre occasioni se il nostro video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace qui sotto naturalmente iscrivetevi al nostro canale per essere sempre aggiornati su tutti i futuri video